Vincenzo De Luca alza il livello dello scontro con il Governo nazionale e sfida Roma sulle scuole. Nella consueta diretta social il Presidente della Regione Campania annuncia la chiusura delle scuole elementari e medie che dunque non riapriranno il 10 gennaio. No ai bambini come cavie da sacrificare sull'altare della politica politicante, dell'opportunismo e degli ideologismi, la fondo di De Luca per motivare lo stop alle elezioni in Campania. In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari. De Luca ha poi attaccato duramente il Governo che scarica il peso del contrasto alla pandemia sulle regioni ma soprattutto ha contestato la distribuzione ineguale dei nuovi farmaci antivirali contro il Covid. Lo dico chiaro, se continua questa storia noi ci rivolgeremo alla magistratura penale perché siamo di fronte ad abusi. Volevo adoperare un aggettivo pesante, mi fermo perché c'è il codice penale, ma è vergognoso. Lo stop alla scuola deciso dalla Regione allinea Palazzo Santa Lucia ai tanti sindaci che in queste ore avevano firmato ordinanze di chiusura degli istituti e soprattutto ai dirigenti scolastici che temono l'ondata dei contagi in classe. Il Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presi di Francesco De Rosa si fa portavoce della preoccupazione del personale educativo sottolineando la necessità di garantire la sicurezza sanitaria nelle aule.